Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire le famosissime Lompo LP42, che sono dei diffusori da scaffale molto economici e molto compatti. Sono molto famosi in quanto sono state provate da molti recensori che ne hanno riscontrato un elevatissimo rapporto qualità-prezzo. Da alcuni sono stati definiti addirittura delle ammazza giganti. Prima di iniziare con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti possono interessare le recensioni di prodotti audio e e-fi come amplificatori, diffusori, cuffie e tanto altro. Ci tengo a precisare inoltre che questi diffusori mi sono stati forniti direttamente dall'azienda produttrice per testarli e farne una recensione. Come al solito il mio giudizio rimane totalmente imparziale. Partiamo subito con l'unboxing. Come potete vedere l'azienda mi ha spedito i diffusori direttamente da Amazon, infatti arrivano confezionati con l'impacco di Amazon. Una volta aperto all'interno troviamo la scatola vera e propria dei diffusori. Andiamo ora ad aprire anche quest'ultima scatola e andiamo a rovesciarla in modo da togliere facilmente i diffusori. Oltre ai diffusori all'interno dell'imballo troviamo anche una busta di plastica che contiene un manuale di istruzioni che è semplicemente un foglio A4 stampato fronte e retro con le istruzioni scritte in inglese e anche dei piedini in gomma. Andiamo a liberare i diffusori che sono protetti da delle buste in plastica. Per prima cosa andiamo subito ad applicare i piedini in gomma. Questi infatti sono molto importanti perché ci permettono di non andare a rovinare i mobili su cui andremo a posizionare i diffusori ma anche di non rovinare i diffusori stessi ma soprattutto creano una barriera per le vibrazioni prodotte dai diffusori verso il mobile quindi vanno a disaccoppiare meccanicamente dalle vibrazioni i diffusori dal mobile su cui sono appoggiati. Andiamo ora ad analizzare i pannelli frontali dei due diffusori e per farlo andiamo a rimuovere le due copertine parapolvere. Abbiamo una coppia di twitter da un pollice e una coppia di woofer da 4 pollici realizzati in fibra di carbonio. Veramente molto belli e tecnicamente interessanti questi piccoli woofer. Passiamo ora ad analizzare la parte posteriore dove abbiamo due piccoli bass reflex veramente molto piccoli. Poi due vaschette che contengono due connettori di buona qualità per il collegamento all'amplificatore. I connettori accettano sia cavo spellato che forcella che banana e sono di buone dimensioni. Sopra la vaschetta per ogni diffusore c'è un adesivo che indica il nome del marchio l'OMPO, il modello l'LP42, l'impedenza da 4 a 8 ohm, poi vedremo con la misura di impedenza che ho realizzato effettivamente che impedenza hanno e la potenza che riescono a sopportare che è di circa 75 watt. Andiamo a vedere brevemente le specifiche tecniche che dichiara la LOMPO per questi diffusori. Abbiamo il materiale che è legno, sono realizzati in legno, gli altoparlanti che abbiamo una coppia di woofer e una coppia di twitter. I woofer sono in fibra di carbonio da 4 pollici con il rivestimento in gomma, con il rivestimento intendono la sospensione che è una sospensione in gomma, il twitter invece qui viene indicato che è da 0.75 pollici in seta, la risposta in frequenza che va da 60 hertz a 20 kHz, anche questa poi andremo a verificarla nella parte di misurazioni, l'impedenza a 4 a 8 ohm, la sensibilità 85 dB 1 watt 1 metro, non male, la potenza 75 watt per 2, potenza ovviamente che il diffusore posso portare. Crossover, abbiamo un condensatore di filtro sul twitter, non abbiamo quindi un vero e proprio filtro crossover. Le dimensioni che sono di 24 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Il peso di un singoletto parlante che è di 1,7 kg. Andiamo ora a sbutellare i diffusori per vedere come sono realizzati all'interno. Partiamo andando a svitare le viti della vaschetta per vedere cosa contiene all'interno. Una volta tolta la vaschetta dei contatti possiamo vedere che questa ha una specie di guarnizione di gomma che permette l'isolamento e non fa sì che non esca l'aria quando il woofer si muove, questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo i due cavi, una coppia di cavi rossa e una coppia di cavi neri che andranno rispettivamente uno al woofer e uno al twitter. Possiamo già intravedere il retro del woofer e anche che le pareti sono rivestite da materiale fonoassorbente. Andiamo ora a svitare tutte le viti degli altoparlanti anteriori per andare appunto ad analizzare i trasduttori. Andiamo a rimuovere il woofer in fibra di carbonio. Come possiamo vedere il magnete è di buone dimensioni e in generale il woofer sembra ben realizzato, sembra un woofer di qualità. Non abbiamo alcun componente di filtro collegato al woofer. Questa non è una cosa bellissima, infatti significa che al woofer arrivano tutte le frequenze, anche le frequenze alte. Andiamo poi a rimuovere il twitter. Ovviamente questo lavora in una camera sua, quindi è sigillato nella parte posteriore e possiamo vedere che qui abbiamo un piccolo condensatore elettrolitico che funge da filtro del primordine per il twitter. In particolare è un condensatore elettrolitico da 3.3 microfarad. Questo condensatore ha il compito di far sì che al twitter arrivino solo le frequenze alte e non le frequenze basse. Passiamo ora alla parte di misurazioni che ho effettuato su questi diffusori e partiamo andando a vedere la curva di impedenza che ho ottenuto di questi diffusori. Come possiamo vedere dal grafico abbiamo una curva di impedenza tipica dei diffusori caricati in bass reflex. Abbiamo infatti due picchi di impedenza, il primo attorno ai 35-37 Hz, quel più basso, e il secondo che arriva attorno ai 100 Hz, che arriva quasi ai 22 Ohm di impedenza. Attorno ai 90 Hz abbiamo poi un piccolo picco di impedenza. Solitamente questi fenomeni avvengono quando c'è un fenomeno di risonanza del cabinet. Abbiamo poi che l'impedenza minima è di circa 3,65 Ohm e avviene nella fascia attorno ai 360 Hz e in realtà in generale questo secondo me è un diffusore che potrebbe essere dichiarato da 4 Ohm, visto che per la maggior parte delle range di frequenze è attorno ai 4 Ohm e non agli 8 Ohm. L'impedenza si aggira attorno agli 8 Ohm, diciamo dai 3-4000 Hz in su. Quindi se io dovessi dare un'impedenza nominale a questi diffusori, darei un'impedenza nominale di 4 Ohm. Andiamo a sovrapporre la curva di impedenza anche dell'altro diffusore per andare a vedere se ci sono delle differenze. Possiamo vedere che ci sono delle minime differenze, ma abbastanza trascurabili, visto che stiamo parlando di differenze inferiori ad 1 Ohm. Per quanto riguarda le medie frequenze, invece, le due curve sono praticamente sovrapposte. Sono andato poi a misurare la risposta in frequenza di un diffusore all'aperto, quindi non c'è nessuna influenza della stanza in questa risposta in frequenza, ma è la risposta in frequenza del solo diffusore. Come possiamo vedere dal grafico, la risposta in frequenza è a dir poco orribile, soprattutto perché abbiamo un buco enorme tra i 2 kHz e i 6-7 kHz e stiamo parlando di un buco di circa 20 decibel, quindi veramente una cosa che si riesce a sentire all'orecchio ed è totalmente inaccettabile per il mio. Possiamo poi notare che attorno già ai 200 Hz la risposta alle basse frequenze inizia già a calare e attorno ai 50 Hz abbiamo circa 10 dB meno rispetto alle medie frequenze. Questa è una cosa molto strana, è il primo diffusore che misuro, che ha questo tipo di comportamento, anche perché non abbiamo un crollo netto delle basse frequenze, infatti abbiamo che calano pian piano e il crollo netto lo abbiamo praticamente a 40 Hz, dopo i 40 Hz, che è veramente molto strano. Sono andato poi a misurare anche l'altro diffusore per vedere se ci sono delle differenze. Come possiamo vedere per le frequenze medio-basse, diciamo che sono praticamente sovrapponibili le due curve, dai 2000 Hz ai 1500 Hz in poi abbiamo una leggera differenza, però diciamo molto trascurabile. Ricordando la risposta in frequenza, specialmente per quanto riguarda il buco che c'è dai 2 kHz ai 5 kHz, mi sono detto una cosa, questo è un tipico buco che si creerebbe quando il tweeter e il woofer hanno la fase invertita, quindi quando le altre frequenze prodotte dal woofer e le altre frequenze prodotte dal tweeter vanno in controfase e quindi si cancellano. Quindi ho ripreso in mano il cacciavite e ho rismontato il tweeter, ho preso il saldatore e ho praticamente invertito di fase il tweeter. Per invertire di fase il tweeter è una procedura molto semplice, basta infatti di saldare il positivo e il negativo del tweeter e praticamente invertirli, quindi risaldarli invertiti. In questo modo avremo che il tweeter ha la fase invertita rispetto al woofer. Quindi mentre prima nella vecchia configurazione il positivo andava al condensatore che poi entrava nel tweeter e il negativo andava direttamente al tweeter, nella nuova configurazione il positivo va direttamente al tweeter mentre il negativo entra nel condensatore e poi va al tweeter. Una volta rieffettuate le misurazioni di risposta in frequenza, come per magia il buco è completamente sparito e infatti la risposta ora è molto più lineare. Questo significa che come dicevo prima i diffusori sono usciti dalla casa con il tweeter invertito di fase rispetto al woofer e ciò implica che nel range di frequenze in cui i due trasduttori si sovrappongono ci sia un'interferenza distruttiva, che crea quindi quell'enorme buco che vediamo nella risposta in frequenza. E questo a parere mio è un errore molto grave da parte dell'azienda produttrice. Purtroppo non è possibile sapere se tutti gli esemplari presentano questo tipo di problema oppure solamente questo lotto di produzione che ho testato io. Può essere che i primi esemplari che gli altri recensori hanno testato non presentino questo problema ma abbino il tweeter con la fase giusta. Comunque anche se fosse il problema di solo questo lotto sarebbe comunque un errore molto grave, significa che il controllo qualità che effettua l'home su questi diffusori è veramente scarso se non totalmente assente. Passiamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso c'è poco da dire visto che sono dei classici diffusori passivi, si collegano semplicemente a un amplificatore, sono molto compatti e l'estetica è anche abbastanza carina. La rifinitura non sono al top, si vede che c'è un rivestimento vinilico plastico molto economico, però per il resto i diffusori si presentano abbastanza bene. Per quanto riguarda invece l'ascolto, devo dire che sin da subito si nota questa leggerezza sulle basse frequenze, come abbiamo visto infatti dalla risposta di frequenza misurata abbiamo risposto alle basse frequenze che è molto attenuata e quindi abbiamo infatti un suono molto leggero che non mi è piaciuto. Tutte queste impressioni di ascolto che state ascoltando sono le impressioni di ascolto con i diffusori, con la fase del twitter modificata da me. E a parte appunto la mancanza delle basse frequenze, abbiamo poi anche delle altre frequenze che sono sì molto dettagliate, che salgono molto in frequenza, però sono abbastanza graffianti e abbastanza fastidiose. Questo io credo sia dovuto al fatto che il woofer non abbia alcun filtro e quindi produca anch'esso un po' di altre frequenze molto distorte che vadano a interferire con l'emissione del twitter. Diciamo che sono riuscito ad ottenere un suono abbastanza piacevole solo utilizzando un amplificatore con i controlli di tono, andando ad aumentare di un po' il controllo dei toni bassi si riesce a raggiungere un buon livello di pressione sonora anche alle basse frequenze e quindi a rialianeare la risposta in frequenza. E quindi anche qui sulle basse frequenze grazie a questo aiuto diventa all'euro del vero molto piacevole perché il suono di questo woofer non è per niente un suono di un basso lungo ma è ben smorzato ed è anche molto profondo paradossalmente. Quindi una volta riaggiustata l'equalizzazione delle basse frequenze si riesce ad ottenere un suono sulle basse frequenze molto piacevole. E la stessa cosa ho fatto con il twitter, ho dato una leggera attenuatina alle altre frequenze e anche in questo modo riusciamo ad addolcire un po' il twitter e ad ottenere comunque un suono a premio molto buono, cosa che secondo me non si può ottenere se colleghiamo i diffusori a un amplificatore che non ha i controlli di tono. In conclusione sono rimasto quindi abbastanza deluso da questi diffusori visto che avevo delle grandissime aspettative date dalle molti epici recensioni positive che avevo letto o visto online. La cosa che più mi ha fatto storcere il naso rimane comunque il gravissimo errore sulla fase del twitter che io spero sia solo un errore dovuto a questo lotto di produzione e non all'intera produzione della lompo. Veniamo ora ai voti finali di queste lompo le P42. Per la potenza che riescono a sopportare ho dato un 9 visto che reggono bene la potenza e riescono ad emettere anche una buona pressione sonora. Per le misurazioni ho dato un 4 se consideriamo i diffusori senza la modifica al twitter e un 7 se consideriamo i diffusori con il twitter invertito di fase. Per il suono ho dato un 5 se utilizzati senza controlli di tono dell'amplificatore e un 7 se utilizzati con il controllo di tono aumentando un pochettino le basse frequenze e diminuendo leggermente le altre frequenze. Per il design ho dato un 6, per la versatilità un 6 e per il rapporto qualità prezzo un 5. Per quanto riguarda il prezzo questi diffusori si trovano su Amazon al costo di 89 euro e 50 con applicabile un coupon di sconto di 5 euro e a parer mio per il prezzo richiesto e la resa sonora non ne valgono la pena al momento. Potrebbe valer la pena acquistarle se il prezzo o qualche sconto scende come era all'inizio sui 60-50 euro potrebbe valerne una pena avendo però un amplificatore con controllo di tono che ci permette di aggiustare un po' la risposta in frequenza di questi diffusori. Altrimenti sinceramente vi sconsiglio l'acquisto di questi diffusori perché con pochi soldi in più si può optare per delle Vulcano A4 ARC oppure per delle Vulcano Pro 4 che con pochi euro in più hanno anche un amplificatore integrato e suonano nettamente meglio. Per chi fosse comunque interessato io lascio il link Amazon in descrizione al video per controllare il prezzo di questi diffusori, infatti andate a controllare il prezzo visto che i prezzi su Amazon variano giorno per giorno e il prezzo che vi sto dicendo ora potrebbe essere cambiato nel momento in cui voi state guardando il video. Vi ricordo che i link che trovate in descrizione al video è un link affiliato con Amazon quindi se decidete di acquistare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando tramite il mio link prima di mettere nel carrello il prodotto quando poi farete l'ordine Amazon riconoscerà una piccola percentuale mentre per voi il prezzo non cambierà assolutamente neanche di un centesimo. Questo è un ottimo modo per supportare il mio lavoro. Ti ringrazio di aver visto il video fino alla fine, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di lasciare un like se il video ti è piaciuto. Per te sono dei semplici click ma per me è molto importante ed è un ottimo stimolo per continuare con questo progetto. Grazie e al prossimo video!